Ancora un altro arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. Questa volta ad essere fermato è stato il ragusano Alessio Solarino, in seguito ad una perquisizione all'interno della sua abitazione. La compagnia di carabinieri di Ragusa, con l'ausilio dell'unità cinofile del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno rinvenuto diverse dosi di hashish e marijuana, già pronte per essere smerciate e immerse sul mercato. Le dosi erano ben occultate in diversi punti all'interno dei mobili della cuscina. I militari, inoltre, hanno trovato all'interno dell'abitazione un coltello a serramanico ancora intrinseco della stessa sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, 20 seppini di cana pendiana e 260 euro ben nascosti in fondo di un cassetto, ritenuti provento dell'attività di spaccio già messo in atto e quindi sottoposto a sequestro. Il nulla facente, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione e posto in regime di arresti domiciliari. L'arma continua adesso con le indagini per individuare la provenienza dello stupefacente e per cercare di capire se il trentenne ragusano sia componente di una più vasta rete di spacciatori operante sulla piazza di Ragusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.